Guardate il conto a Tavolmina, amo sempre uno con i soldi qua al centro di Tavolmina L'importante è che lo pensano Cioè lo pensano, che ti vedono colorato Daniel vieni Daniel vieni Guardate ragazzi siamo al centro di Tavolmina Il conto si sta, chissà, ma come si può dire, si sta mimetizzando tra le persone benestanti di Tavolmina Perché io conosco tutti i Tavolmina Certo, però lui è un morto di fama, ricordatevi sempre questo Guardate, abbiamo anche la farina oggi qua, che l'abbiamo incontrata Francesca cosa stai guardando al centro di Tavolmina? Ma che sto facendo a gennaio il conto? Ma a gennaio? Se ma agosto? Ma voglio dire, se una persona poi non rimane in vita di qua a gennaio chi lo sa? Ma perché sta purendo? Ma tu lo puoi sapere se domani mattina... Certo, in effetti, ma allora convinco a Santo a farti fare un regalo? Una volta Amo, mi ha detto Francesca che siccome lei a gennaio fa... Amo, mi ha detto Francesca che a gennaio fa il compleanno Siccome si scanda camori di qua a gennaio, vuole il regalo ora per gennaio Ma io il regalo glielo posso anche fare, ma siccome si scanda camori Se c'ha gioielli, oro, soldi salvati... No, perché santo non ci vuole fare... Minuna... Minuna muro io con il desiderio... Ho visto, perché non è a gioia... Allora, io muoio con il desiderio di avere e tu muoio con il desiderio di avere sempre tramite me... E allora stavano ognuno un bello... Bravo, continuiamo a fare il corso di Taormina... Ma il problema non era questo... Ma perché te lo... Ma lui devi... Anche a Santo... Santo si inniua completamente... Guarda... Guarda...